Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti anche a questa nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute. Questa sera incontreremo un giovane medico che proviene dall'Emilia Romagna, si chiama Matteo Casadei, è un medico chirurgo specializzato poi in chirurgia maxillofacciale, anche lui fa capo a Fisioradi Medical Center. È un'ulteriore dimostrazione di come la medicina moderna ormai sia davvero una disciplina totalmente basata sulla multidisciplinarietà e sulle interdisciplinarietà fra le varie specializzazioni. Il chirurgo maxillofacciale si occupa ovviamente di quello che è l'aspetto della muscolatura, ma non solo, di tutto quello che è anche l'aspetto scheletrico della mandibola. È un'articolazione estremamente importante, lo dirà anche il medico sicuramente, è una proprio delle più sottoposte a sforzi, sottoposte a movimenti, è dotata di una forza enorme, quando noi stringiamo i denti sviluppiamo una forza enorme, forse una delle parti del nostro corpo più davvero forti nel momento in cui deve agire al 100%. I temi che affronterà il dottor Matteo Casadei sono davvero tanti, interessantissimi. Partiamo subito con l'intervista al giovane medico romagnolo. Grazie a tutti. Buonasera dottor Matteo Casadei. Buonasera. È con noi questa sera il dottor Matteo Casadei, giovane medico romagnolo, viene da Morciano di Romagna, vicino alla nostra regione, proprio qui a 30 chilometri dalla struttura di Fisioradi Medical Center, che conferma la volontà di intervenire su tutti gli aspetti della salute che ci riguardano. Infatti la specializzazione del dottor Casadei è la chirurgia maxillo-facciale. In cosa consiste esattamente? Allora, la chirurgia maxillo-facciale, diciamo così, è quella disciplina che si occupa di tutte le problematiche del volto, comprese però anche le strutture profonde, quindi da cartilagini, muscoli, ossa, sino ai denti. Infatti spesso il nostro lavoro si va a intrecciare e sovrapporre con quello del dentista. In particolare oggi vi volevo parlare di una disciplina che è l'agnatologia, che si occupa di equilibrio masticatorio e di tutte le problematiche che poi si vanno a ripercuotere sulla articolazione temporomandibolare, cioè l'articolazione tra la nostra mandibola e il resto del cranio. Che sarebbe quella che ci permette di parlare, di mangiare, di masticare, di declutire. Che l'equilibrio masticatorio da un punto di vista clinico poi spesso è stato riscontrato avere ripercussioni su tutto il nostro organismo e quindi è bene mantenerlo in salute. Certo, infatti, però ovviamente se si parla di apparato mandibolare magari ci si accorge che c'è qualcosa che non va in seguito a dei segnali. E quali sono questi segnali che ci dicono attenzione, stai masticando male, stai parlando male o comunque c'è un problema a livello di questo apparato? Allora, i primi sintomi da riconoscere sono il dolore fondamentalmente, il dolore che tende a localizzarsi soprattutto nella regione preauricolare ma che poi attraverso le fasce muscolare tende ad irradiarsi e può localizzarsi a livello delle tempi e quindi creando anche delle cefalee muscolotensive invalidanti oppure lungo i fasci muscolari del collo fino al singolo scapolare alle spalle. Un altro sintomo è la limitazione funzionale, quindi tutte le problematiche legate alla masticazione nel senso difficoltà nell'apertura, nella chiusura della bocca, nel masticare certi cibi. Possono comparire dei rumori, molto spesso si avvertono dei click, degli scricchiolini, degli schiocchi localizzati proprio a livello dell'orecchio, spesso durante la masticazione, durante uno sbadiglio, oppure senso di incoordinazione masticatoria, difficoltà appunto nel masticare il cibo. A volte questi sintomi si possono riferire invece all'orecchio con un senso di ovattamento, di ottundimento, ma in realtà l'orecchio in quel caso lì non c'entra, ma è proprio conseguenza dell'infiammazione a livello articolare che poi può portare problematiche anche a livello dell'orecchio. Quindi è bene, insomma, quando si riconoscono uno o più di questi sintomi, rivolgersi a uno specialista, in primo luogo può essere anche il proprio dentista, e quando la problematica magari si fa più complessa, al chirurgo maxilofaciale. Anche perché la masticazione è uno degli aspetti più importanti della nostra nutrizione, bisogna masticare bene, ce lo dicono sempre, a lungo in modo tale di poi digerire meglio, sin dalla bocca ciò che si comincia a mangiare. È la prima fase della digestione. Esatto, è la prima fase della digestione e, oltretutto, se noi a questi segnali non diamo una risposta, cioè non ce ne occupiamo, chiaramente si può andare incontro a delle conseguenze fastidiose. Esatto, se il problema viene trascurato, i problemi e i sintomi tendono ad aggravarsi, in particolar modo il dolore e la limitazione funzionale. Quando si instaura quella che viene definita l'artrosi, che può andare a coinvolgere tutte le articolazioni del nostro corpo, compresa l'articolazione temporomandibolare, sebbene piccola, è un'articolazione anche lei, e quindi quando subentra poi un processo di artrosi, i dolori si fanno importanti e le limitazioni funzionali possono arrivare a limitare la vita quotidiana, quindi una vera e propria difficoltà nel mangiare, nel nutrirsi, come nel parlare e in tutte le altre funzioni in cui è coinvolto, insomma, l'apparato stomatognatico. Ovviamente ci sono delle cure cui si accede nel momento in cui ci si decide di rivolgere allo specialista per affrontare il problema. Certo, allora, acceniamo anche alle cause del problema. Bravissimo, perché ricordiamoci sempre che la cosa più importante è andare alle cause, perché il sintomo è solo la parte finale della patologia e c'è una causa che porta a quei sintomi. Spesso curare il sintomo purtroppo non risolve la problematica e la problematica dell'articolazione temporomandibolare però è complessa, in quanto spesso non vi è un'unica causa che porta a sviluppare il problema, ma è una serie di concause e tra queste alla base c'è probabilmente un difetto di dimasticazione, una malocclusione, cioè una errata disposizione dei denti che può portare appunto ad uno sbilanciamento che poi si ripercuote a livello articolare. Ci possono essere le cosiddette parafunzioni, quindi bruxismo, serramento, che possono essere diurne, quindi coscienti, ma anche notturni, incoscienti. Ci possono essere i traumi come i colpi di frusta, le cattive avvitudini come l'onicofagia, il mangiarsi le unghie, il masticare magari il dorso di una penna, il tappo di una penna, di una matita. Queste sono tutte delle funzioni eccessive, delle iperfunzioni non necessarie che sovraccaricano l'articolazione temporomandibolare e questo sovraccarico a lungo andare ne porta poi alla degenerazione. Quindi purtroppo non essendoci spesso un'unica causa, il problema non è sempre di facile risoluzione. Il primo step viene rappresentato dal bite. Il bite è, immaginiamoci, il morso di un pugile per intenderci, quindi è una placchetta che viene messa in mezzo ai denti. Il bite è solitamente rigido, liscio, ha lo scopo di, in primo luogo, proteggere i denti se ci sono le parafunzioni come il bruxismo e il serramento. E in più permette, diciamo così, essendo liscio, quindi eliminando i contatti tra i denti, gli incastri, permette alla mandibola di andarsi un pochino a posizionare nella posizione a lei più comoda. E dall'altra parte va a creare uno spessore. Questo spessore, che si ripercuote poi sui denti, permette alla mandibola di toccare prima lo stop dei denti macellari superiori e quindi di allontanare il condilo dalla fossa articolare. La mandibola è un osso a ferro di cavallo, ci sono i due condili che articolano con il cranio, fondamentalmente. Il bite che viene messo tra i denti porta però ad una distrazione del condilo, quindi dell'articolazione. L'articolazione viene messa a riposo, si interrompe quel ciclo che abbiamo detto c'è una iperfunzione, un sovraccarico. Questo sovraccarico porta all'infiammazione, l'infiammazione porta in risposta ad una contrazione muscolare e questa contrazione muscolare non fa altro che andare ad aggravare l'infiammazione, quindi questo circolo vizioso va interrotto e il bite è lo strumento che ci permette di interrompere questo circolo vizioso. Già nel 90% dei casi con il bite si risolve la sintomatologia, quindi dolori, fastidi, i rumori spesso se sono presenti non scompaiono immediatamente, ma il rumore di per sé non è indice di una vera e propria problematica, è indice di una incoordinazione articolare ma se il paziente sta bene, non ha dolore, riesce ad aprire la bocca, a mangiare, a fare tutte le sue funzioni, sebbene senta uno schiocco, questo può essere trascurato. Facciamola schioccare insomma. Nei casi più gravi, meno responsivi, che quindi con il bite non trovano aggiovamento, solitamente si interviene con quella che viene definita l'artrocentesi, ossia il lavaggio dell'articolazione. È una procedura mini-invasiva che si fa con degli aghi, fondamentalmente, ma ci permette di entrare all'interno dell'articolazione, eseguire un lavaggio, quindi di tutti i cataboliti infiammatori e questo lavaggio, proprio grazie ad un'azione meccanica, può andare, diciamo così, a liberare l'articolazione e a donarle nuovamente quel movimento che, insomma, possa portare ad un miglioramento della sintomatologia, sempre fondamentalmente nel caso dell'articolazione temporomandibolare, in realtà, quello che possiamo fare è controllare i sintomi, anche perché la chirurgia dell'articolazione temporomandibolare che è stata tentata negli anni per risolvere un certo tipo di problemi e non ha mai dato dei risultati soddisfacenti, ok? E questo è stato molto probabilmente dovuto, comunque, associato al fatto che la muscolatura masticatoria è la più forte che abbiamo nel nostro corpo e, sebbene chirurgicamente, l'articolazione veniva rimessa, veniva ricostruita in maniera perfetta, gli squilibri muscolari memorizzati all'interno dei muscoli stessi portavano comunque ad un nuovo... Praticamente a una recidiva. Ad una recidiva. Ad una recidiva. Ad una recidiva. Di conseguenza, diciamo che la chirurgia viene lasciata come ultima sponda, come ultima risorsa proprio per quei casi disperati, fondamentalmente. Quei casi in cui non si può fare nulla. Il dottor Casadei ci ha fatto comprendere quanto è importante agire bene e lavorare bene con la mandibola. E c'è una cosa, dottore, che viene detta spesso, che il buon Dio ci ha dato due orecchie e una bocca. Quindi, in realtà, diciamo che dovrebbe essere un 66% dedicato all'ascolto e un 33% dedicato al lavoro della mandibola, fra cui anche parlare. Per fortuna che lei ha parlato molto, invece, questa sera, perché ci ha davvero aiutato a comprendere molto bene questa articolazione così complessa e tutto quello che può succedere. Grazie davvero. Grazie a voi. Buona serata a tutti, ci vediamo lunedì prossimo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.